Giuliano Razzoli undicesimo a Wengen una bella gara su una Maliken cosa cosa ci racconti? Sono molto contento della gara di oggi soprattutto la prima manche è stata super direi col 24 già un po' segnata e la seconda super fino in fondo al muro poi un po' ne ho lasciata per strada però insomma la stagione non è andata molto bene fino adesso sono seguire un po i punti un po la classifica dovevo anche arrivare oggi mi sentivo bene e quindi l'ultimo pezzo forse un po tenuto troppo non molli bravo Razzoli adesso due slalom che conosci bene Kitz e Schladbing ancora due classiche per fare ancora meglio beh sicuramente questo risultato da fiducia c'è sempre mancato un qualcosa in questo mese e mezzo oggi sono riuscito a sistemare due cose sul materiale e il risultato si è visto quindi devo dire che io come avevo come mi sentivo lasciata c'è ancora ed è ancora buona competitiva chiaro che bisogna sempre cercare di crescere di fa qualcosa in più perché la davanti vanno forte però oggi non ci sono arrivato tanto lontano